in questo video vedremo come vendere un abbonamento andiamo a selezionare la cliente a cui vogliamo venderlo il lavorante o la lavorante e andremo sulla voce abbonamenti qui avremo diversi abbonamenti relativi sia servizi prodotti o eventuali pacchetti nel caso servizi scegliamo di vendere trattamento nobea fermo a cliccare sul più e qui comparirà la voce dell'abbonamento e il prezzo e la quantità possiamo scegliere di aumentare la quantità o se sbagliamo possiamo anche tornare indietro dal meno e diminuirla nel caso che ne vendiamo 5 e in contemporanea possiamo vendere anche dei prodotti quindi argan shampoo clicchiamo sempre sul più possiamo attribuirne due andremo su conferma e comparirà l'abbonamento totale come unica voce all'interno della nostra ricevuta stampa ricevuta modalità di pagamento quella che ci viene indicata salva e stamperemo la ricevuta la nostra cliente andrà fuori dalla cassa successivamente faremo rientrare la cliente e andremo a vedere selezionandola come in alto compare un abbonamento attivo grazie a tutti